Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come vedere gli fps su minecraft ovviamente andiamo nelle impostazioni di minecraft nel menu principale opzioni andiamo su grafica prestazioni per stabilizzare così gli fps e varie per mostrare gli fps contatori lag si, mostra fps si, condizioni medio, schermo intero si, telemetria si, tempo normale non ci interessa, profilo di debug si, detrezioni oggetti si, fatto, fatto, f1 ok eccoli la faccio sui 600, 89, 500, vabbè 400, 600 fps quindi è un video nel 2023 aggiornato su minecraft su come vedere gli fps su questo gioco e quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanellina di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao